Adesso abbiamo il momento serio e sono le scuse che Michele dovrà porgere e dichiarare a Chiara. Io, Dava Michele, con queste parole volevo chiedere umilmente scusa a Chiara per non aver adempiuto il mio dovere e aver contato i dossi stasera. Chiara, perdonami. E con queste parole noi concludiamo il giro di consegne delle locandine delle confessioni vicariali e aspettiamo tutti gli adolescenti con questa diapositiva. Vi aspettiamo. Il 19, abbonate sotto. Il 19, abbonate sotto.